tornati nel mio canale con un nuovo tutorial il protagonista di oggi sono il filato fiocco nella versione verde e giallo colori adatti proprio per il periodo primavera estate poi ci serviranno dei marca punti ed un uncinetto del tre e mezzo e adesso possiamo iniziare con il tutorial per quanto riguarda il progetto di oggi è una giacca top down quindi dobbiamo prendere la circonferenza della testa e non dobbiamo chiudere in cerchio perché una giacca e quindi dobbiamo avere l'apertura sul davanti io ho fatto uno strone rettangolare per la mia circonferenza ho avviato 96 catenelle che corrispondono a un totale di 40 di 54 centimetri per quanto riguarda il multiplo del punto è 2 più 1 visto che stiamo facendo un punto piedi pull io ho non ho voluto usare i colori classici bianco e nero o rosso e nero ma ho voluto usare questi due colori per richiamare un po' i colori primaverili inizio con il giallo e avvio la mia catenella di 96 maglie più una quindi un totale di 97 catenelle per suddividere il nostro sprone visto che uno sprone rettangolare nel mio caso ho fatto 96 catenelle quindi faccio 96 diviso 6 il risultato che ho e 16 quindi il numero 16 lo vado a mettere sulle maniche e anche nei quarti anteriori per ricavare il dietro ho fatto 16 per 2 e come risultato 32 quindi il davanti i quarti del davanti e le maniche ho un totale di 16 catenelle per quanto riguarda il dietro ho un totale di 32 catenelle quindi proseguo in questo modo faccio la catenelle in più vado nella catena al fianco lavoro una maglia bassa a fianco una maglia alta devo alternare maglia alta e maglia bassa a fianco maglia bassa vado a fianco una maglia alta fino ad avere un totale di 16 maglie ci vediamo sulla sedicesima alternando la lavorazione di maglie basse e maglie alte sono arrivata alla quindicesima catenella adesso sulla sedicesima catenella devo lavorare un aumento che consiste nel lavorare nella stessa maglia di base 3 maglie sempre sempre alternando la quindicesima ho lavorato una maglia bassa vado sulla sedicesima che nel mio caso qui è il quarto anteriore quindi sulla sedicesima faccio l'aumento e lavoro una maglia alta perché continuo sempre l'alternanza di maglie basse magliate una maglia bassa è una maglia alta mi segno la maglia centrale che è la maglia bassa perché sempre sulla maglia bassa dobbiamo fare il nostro aumento di tre maglie vado a fianco e lavoro una maglia bassa perché ho lavorato l'ultima maglia alta e continuo sempre la sequenza maglia bassa a fianco maglia alta a fianco maglia bassa e a fianco maglia alta e devo lavorare di nuovo 15 magli e sulla sedicesima dobbiamo fare sempre l'aumento proseguite questo e vi faccio rivedere come fare l'aumento ho lavorato altre 15 maglia alternando maglia bassa maglia bassa e maglia alta e sulla sedicesima questa è la parte della spalla sulla sedicesima catenella lavoro una maglia alta qui facciamo sempre l'aumento maglia bassa e maglia alta segno di nuovo la maglia centrale che è la maglia bassa e continuo con come ho terminato con la maglia alta vado a fianco maglia bassa maglia alta a fianco e maglia bassa a devo lavorare il dietro con 32 maglia sempre l'alternanza di maglia alta e maglia bassa sulla trentaduesima dobbiamo fare l'aumento come abbiamo fatto prima però ve lo faccio rivedere sono arrivata sulla trentaduesima catenella e qui a questo punto lavoro sempre l'aumento quindi inizio con una maglia alta sempre nella stessa maglia di base una maglia bassa e una maglia alta metto il segno sempre sulla maglia centrale devo lavorare la parte della spalla con 16 maglie quindi vado a fianco e lavoro una maglia bassa a fianco una maglia alta a fianco una maglia bassa sulla sedicesima lavoriamo sempre un aumento di 3 maglie mi ritrovo sulla sedicesima catenella e qui facciamo l'aumento di 3 maglie quindi nella stessa catenella lavoro una maglia alta rientro maglia bassa e maglia alta segno sempre la maglia centrale che la maglia bassa vado avanti fino a terminare il giro e poi dobbiamo cambiare il filo quindi alterno sempre maglia alta e maglia bassa e devo lavorare le ultime 16 catenelle che sono l'altro quarto anteriore ci vediamo al termine del giro ho lavorato anche il quarto anteriore con 15 maglie alternando sempre le maglie basse con le maglie alte e sulla sedicesima che l'ultima maglia devo fare il cambio di colore e finiamo sempre il giro con una maglia alta quindi ricordatevi che dobbiamo iniziare con una maglia bassa e terminare con una maglia alta quindi entro nella sedicesima faccio una mezza lavoro la maglia alta e la lavoro a metà o due asole sull'uncinetto e queste due asole le vado a chiudere con l'altro filo con il colore contrastante faccio in questo modo e chiudo tutte le asole tiro bene il giallo e il verde e a questo punto io non taglio il filo ma giro il lavoro e mi porto nella lavorazione il filo giallo quindi lo inserisco sulla parte del dietro qui tiro bene questo mi metto anche questo è lavoro insieme il verde e il giallo se invece voi trovi trovate comodo nel tagliare il filo potete farlo però facendo in questo modo avete meno fili da sistemare alla fine del lavoro quindi mi alzo con una catenella con il verde e iniziamo con la maglia bassa entro nella maglia sottostante prendo il filo giallo e lavoro una maglia bassa a fianco maglia alta dobbiamo alternare sulla maglia bassa lavoriamo una maglia alta e sulla maglia alta una maglia bassa a fianco o una maglia bassa si riconosce perché è più a solo una v si vede come una v ed è più bassa lavoriamo la maglia alta questo per dare il movimento del punto piedi pool questo è filo giallo che mi porto dietro poi il verde lo tagliamo in un secondo momento a fianco la maglia alta e quindi lavoro una maglia bassa a fianco o la maglia bassa e sopra lavoro la maglia alta io la maglia alta e lavoro la maglia bassa proseguite questo e poi vi faccio vedere come fare dove abbiamo l'aumento vedete sempre da dietro se il filo lo state portando bene qui ho la maglia bassa e lavoro la maglia alta a fianco maglia bassa ci vediamo sulla maglia centrale arrivata sulla maglia centrale tolgo il segno è la maglia centrale era la maglia bassa e quindi qui dobbiamo lavorare sempre il nostro aumento qui ho la maglia bassa sulla maglia centrale che è una maglia bassa lavoro maglia alta rientro nello stesso punto maglia bassa e rientro nello stesso punto maglia alta e segno la maglia centrale l'altro giro faremo l'aumento sempre sulla maglia bassa a fianco lavoro continuo la sequenza di maglie basse e maglia alta quindi qui o la maglia alta e sopra lavoro la maglia bassa qui o la maglia bassa e sopra maglia alta maglia bassa maglia alta e porto con me anche dietro il filo giallo vado avanti ci vediamo sull'altra parte del segno lo trovo di nuovo sulla maglia segnata che la maglia centrale e continuo la lavorazione del punto e qui dobbiamo fare l'aumento quindi entro il lavoro una maglia alta perché sotto abbiamo la maglia bassa rientro nello stesso punto maglia bassa rientro nello stesso punto maglia alta abbiamo fatto un altro momento segno la maglia bassa che la maglia centrale e dal giro successivo qui faremo l'aumento a fianco sulla maglia alta lavoro una maglia bassa vado a fianco lavoro maglia alta a fianco sulla maglia alta una maglia bassa fianco sulla maglia bassa una maglia alta e vi faccio rivedere per l'ultima volta l'aumento e poi il cambio di colore quindi proseguite questa sequenza ci vediamo sulla maglia segnata ho terminato di lavorare la parte del dietro e qui mi ritrovo dove avevo la maglia segnata ho tolto il segno e su questa maglia devo lavorare tre maglie che fanno parte dell'aumento quindi è una maglia bassa sotto lavoro una maglia alta sopra rientro maglia bassa rientro nello stesso punto maglia alta e segno di nuovo la maglia centrale che è la maglia bassa e continuo con la sequenza del punto quindi non è un punto molto difficile basta ricordarsi che sulla maglia alta dobbiamo lavorare una maglia bassa e sulla maglia bassa la maglia alta dobbiamo alternare e dobbiamo proseguire questo fino ad arrivare sulle maglie segnate una volta che arriviamo sulla maglia segnata dobbiamo fare l'aumento che consiste in tre maglie sempre alternando maglia bassa e maglia alta proseguite questo poi vi faccio vedere il cambio di colore sono arrivata al termine del giro quindi terminiamo con una maglia alta e qui dobbiamo fare il cambio di colore quindi prendiamo il filo entriamo nella maglia bassa sottostante sempre tenendo il giallo sotto prendo il filo da dietro verde e chiudo due asole queste due asole che abbiamo sull'uncinetto le chiudiamo con il giallo quindi prendo il giallo che mi ritrovo sotto e chiudo tutto insieme tiro bene il verde devo girare il lavoro il verde lo passo da questa parte perché adesso dobbiamo lavorare con il giallo quindi mi alzo con una catenella faccio bene attenzione che porto con me anche il filo verde entro nella maglia bassa sottostante nella maglia alta sottostante e lavoro una maglia bassa e ho preso anche il filo verde a fianco o la maglia bassa come vedete si vede questa piccola v e sulla maglia bassa lavoro una maglia alta a fianco maglia bassa a fianco maglia alta e vado avanti fino ad arrivare sulla maglia centrale dove dobbiamo fare l'aumento proseguite la lavorazione ci vediamo sulla maglia centrale continuato la sequenza del punto fino ad arrivare sulla maglia segnata e qui a questo punto tolgo il segno e faccio l'aumento sotto una maglia bassa e lavoro una maglia alta rientro nello stesso punto maglia bassa rientro nello stesso punto maglia alta e qui abbiamo fatto l'aumento segno sempre la maglia centrale che la maglia bassa lavoro su ogni maglia alta sottostante una maglia alternando maglia bassa e maglia alta qui o la maglia alta lavoro la maglia bassa prendendo anche portando con me anche il filo verde proseguo questo fino ad arrivare alle mie larghezze alternando sempre questi due colori e devo raggiungere la lunghezza dello scalfo e la larghezza del del torace quindi questo è il nostro sprone adesso vi faccio vedere come sta avvenendo dobbiamo alternare questi due colori e man mano che andremo avanti con gli aumenti qui crescerà il nostro sprone proseguite questa lavorazione ricordatevi dove avete la maglia segnata lavorate tre maglie in una maglia nel mio caso è maglia alta maglia bassa che poi la segno e maglia alta e poi sempre l'alternanza di colore e di punti ci vediamo quando ho raggiunto le mie larghezze questo è il risultato del mio sprone sono andata avanti con gli aumenti come vedete qui abbiamo fatto gli aumenti in una maglia ne abbiamo lavorato tre maglie quindi questi sono gli angoli e proseguendo con gli aumenti e la sequenza del punto questo è il risultato io sono andata avanti per un totale per quanto riguarda la manica è il lo scalfo della manica lo scalfo sono un totale di 17 18 centimetri la manica è larga un totale di 16 centimetri quindi per me va bene per quanto riguarda la circonferenza sono 41 centimetri anche qui ci siamo solo che nel unire il davanti con il dietro vado aggiungere delle catenelle per avere più morbidezza e più larghezza alla manica quindi voi andate avanti con gli aumenti come avete fatto fino adesso e vi rendete conto quando arrivate sotto lo scalfo se volete aggiungere delle catenelle io aggiungerò solo 3 catenelle seguendo sempre il motivo quindi dobbiamo seguire sempre la sequenza perché dove ho messo il segno ho messo il segno sulla maglia centrale che corrisponde ad una maglia alta quindi devo lavorare la maglia alta faccio le catenelle e poi mi aggancio sulla maglia bassa con una maglia alta quindi devo seguire la sequenza facendo 3 catenelle mi ritrovo poi a lavorare sulla catenella una maglia bassa una maglia alta e di nuovo una maglia bassa e poi vado a chiudere con la maglia alta dovete tenere presente questo se casomai non dovete fare le catenelle per aggiungere poi vi dico quando arriviamo a questo punto come dovete fare io mi sono portata avanti con l'altro filato e ho lavorato sempre la sequenza del punto vi faccio vedere meglio da vicino quindi devo unire devo continuare a lavorare fino a raggiungere il segno a questo punto però io taglio il filo giallo perché quando andiamo ad unire le due parti il filo giallo rimane che si vede quindi non sta bene quindi lavorate con il filo portatevelo fino a un certo punto così poi non si disfa il lavoro e continuiamo la lavorazione solo con il verde dal giro successivo dobbiamo inserire di nuovo il colore giallo quindi questo lo metto da parte e lavoro la sequenza qui sulla maglia alta lavoro una maglia bassa sulla maglia bassa una maglia alta e vado avanti e ci vediamo dove abbiamo il segno sono arrivata dove ho il segno e lavoro a fianco la maglia prima del segno lavoro una maglia bassa continua sempre la sequenza il punto non cambia qui a questo punto devo unire davanti con il dietro tolgo il segno devo lavorare sulla maglia bassa quindi sulla maglia bassa faccio una maglia alta se non volete aggiungere le catenelle in più perché avete raggiunto la vostra larghezza sia del del corpo che della manica basta andare sulla maglia bassa da questa parte e prendiamo anche la maglia bassa da questa parte e lavoriamo una maglia alta faccio in questo modo e lavoro una maglia alta e continuo poi a lavorare sulla maglia alta una maglia bassa sulla maglia bassa una maglia alta quindi prendo tutte e due sotto manica ve li faccio rivedere quindi tolgo il segno da questa parte entro prendo il filo entro sia da questa parte che da questa parte sempre dove ho il segno e lavoro la maglia alta dal giro successivo poi sulla maglia alta lavoreremo la maglia bassa e sulla maglia bassa la maglia alta quindi il punto non cambia dobbiamo solo unire in questo modo il davanti con il dietro io invece voglio aggiungere 3 catenelle quindi sulla maglia bassa lavoro una maglia alta aggiungo 3 catenelle 1 2 e 3 e chiudo da questa parte con una maglia alta sulla maglia bassa ho unito il davanti con il dietro e continuo la lavorazione fino ad arrivare dall'altra parte del punto dove ha messo il segno vado avanti maglia alta sulla maglia bassa maglia bassa sulla maglia alta sono arrivata dall'altra parte dello scalfo qui o il segno tolgo il segno e sulla maglia bassa lavoro la maglia alta 3 catenelle 1 2 e 3 ripeto a me servono solo 3 catenelle se voi volete aggiungere altre catenelle basta che poi vi rendete conto la sequenza del punto vado qui tolgo il segno e sulla maglia bassa lavoro la maglia alta e da questo punto in poi dobbiamo lavorare il nostro corpo e dobbiamo tenere in sospeso le maniche le mani che le lavoreremo in un secondo momento e non dobbiamo più aumentare quindi proseguo lavorazione ci vediamo al termine del giro così vi faccio vedere come iniziare di nuovo con il filo giallo e poi vi faccio vedere come lavorare sulle catenelle terminiamo il giro sempre con una maglia alta quindi sulla maglia bassa lavoro una maglia alta prende il filo e chiudo le prime due asole dobbiamo cambiare il filo quindi prendo il colore giallo e adesso chiudo le asole con il colore giallo tiro bene il tutto e mi porto le codine sul davanti perché poi girando mi risulta il dietro e devo lavorare con il giallo portandomi dietro il filo vero verde iniziamo con una catenella e una maglia bassa nello stesso punto prendendo le codine prendo il filo e lavoro la maglia bassa a fianco lavoro la maglia alta sulla maglia bassa a fianco la maglia bassa sulla maglia alta porto sia la codina gialla che quella che il filo verde così blocco tutto e vado avanti in questo modo fino a lavorare sulle catenelle face e vi faccio vedere come dobbiamo proseguire la lavorazione sono arrivata sulle catenelle e quindi sulla maglia bassa lavoro la maglia alta sulla maglia alta prima delle catenelle lavoro una maglia bassa poi a fianco sulla catenella lavoro una maglia alta la prima a fianco una maglia bassa la seconda a fianco lavoro una maglia alta e sulla maglia alta lavoro una maglia bassa e ho lavorato in questo modo adesso vado dove ho la maglia bassa e lavoro una maglia alta continuo sempre la mia sequenza e proseguo questo da questa parte è anche dall'altra parte della manica e vado avanti sempre con il cambio del filo e la sequenza del colore fino alla lunghezza che voglio raggiungere andate avanti e poi vi faccio vedere quanti centimetri è lunga la mia giacca ve lo faccio rivedere da questa parte quindi lavorato sulla maglia bassa la maglia alta sulla maglia alta la maglia bassa a fianco sulla prima catenella lavoro una maglia alta volete se volete lavorare sulle catenelle oppure come ho fatto dall'altra parte ho preso la catenella e fine insieme è indifferente a fianco lavoro una seconda maglia mossa perché ho lavorato la maglia alta a fianco lavoro la maglia alta e sulla maglia alta lavoro la maglia bassa quindi vado avanti in questo modo fino alla mia lunghezza e questo è il risultato della nostra giacca qui è dove ho unito ecco qua adesso devo lavorare dritto devo scendere dritto senza aumentare senza fare niente quindi proseguite la lavorazione sempre in tondo come stiamo facendo e ci vediamo alla fine della lunghezza sono andata avanti con la lavorazione e misurando dal collo fino alla lunghezza sono un totale di 40 centimetri io non ho voluto farlo molto lungo perché il mio intento è di usarlo sui jeans una volta che sono arrivata alla vita come vedete qui è dritto e qui è un po più largo ho cambiato numero di uncinetto dal 3 e mezzo sono passata al 4 per avere più morbidezza sui sui fianchi se voi volete andare avanti con la lavorazione potete allungare la giacca come volete a vostro piacimento una volta che ho fatto questo poi dobbiamo lavorare le maniche e rifinire il davanti io una manica già l'ho fatta ed è questa non l'ho fatta molto lunga la lunghezza della manica sono da questo punto al collo 32 centimetri questa manica arriva al gomito ripeto perché il mio intento è di usarlo sui su un abbigliamento più sportivo anche se il punto è elegantino ma va bene anche sul sportivo una volta però lavorata la manica non è come abbiamo lavorato tutto il corpo per quanto riguarda la manica dobbiamo lavorare in tondo però sempre un giro dal diritto e un giro dal rovescio solo che non dobbiamo portare con noi il filo del colore contrastante ma lo lasciamo a metà e iniziamo la lavorazione con i due fili però ve lo faccio vedere adesso vi faccio vedere come rifinire sul sui quarti anteriori anche perché non voglio fare una rifinitura che appesantisce quindi rifiniamo prima il davanti e poi iniziamo a lavorare la manica per quanto riguarda la rifinitura dei quarti anteriori fanno delle piccole asole di 3 catenelle con il colore verde entro dove ho la parte di sotto quindi questo è il nostro bordo inferiore entro con l'uncinetto faccio un piccolo cappietto e passo attraverso tutte e due le asole faccio una catenella rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa quindi qui lavoro una maglia bassa 3 catenelle 1 2 e 3 e faccio una maglia bassa tra i due punti tra quello verde e quello giallo questo punto faccio una maglia bassa di nuovo 3 catenelle 1 2 e 3 è sempre qui ho il il colore verde qui ho il giallo e faccio una maglia bassa 1 2 e 3 vado dove ho il colore giallo una maglia bassa 1 2 e 3 qui ho il colore giallo una maglia bassa 1 2 e 3 dove il giallo una maglia bassa e lavoro un giro in questo modo quindi lavoro questa parte e l'altra parte poi arrivo fin sopra qui qui taglio il filo e riprendo dall'altra parte quindi una rifinitura molto carina e particolare adesso iniziamo a lavorare la manica per quanto riguarda la mia larghezza manica ho un totale di 36 cm quindi 18 sul davanti e 18 sul dietro se invece voi vi trovate con una manica molto larga faremo delle diminuzioni sotto il sottomanica per queste diminuzioni saranno di 3 maglie perché noi dobbiamo rispettare sempre il nostro motivo io farò solo una diminuzione qua sotto perché poi alla fine se non mi viene troppo larga quindi io farò un totale perché l'ho fatto già qua di 60 maglie quindi con il colore contrastante vedete con che colore avete terminato quindi ho terminato con il giallo devo iniziare con il verde inizio qui sotto il sottomanica e devo controllare le maglie che ho sotto quindi devo rispettare sempre maglia alta e maglia bassa maglia alta e maglia bassa qui entro direttamente dove ho la maglia bassa così poi dobbiamo terminare in giro con la maglia alta dobbiamo sempre iniziare con la maglia bassa e terminare con la maglia alta quindi a questo punto io lavoro faccio un piccolo cappietto metto in questo modo entro faccio una catenella e nello stesso punto una maglia bassa ora devo fare una diminuzione di tre maglie e siccome devo lavorare la maglia alta quindi devo diminuire di tre maglie maglie alte vado a fianco entro nello spazio lavoro una maglia alta a metà filo sull'uncinetto qui nello spazio maglia alta a metà e di nuovo qui dove ho la maglia bassa entro e lavoro maglia alta chiusa a metà e chiudo tutte e tre le asole me le segno così dal giro successivo so che qui devo lavorare una maglia bassa su queste tre maglie però ve lo farò vedere adesso devo lavorare una maglia bassa quindi vado a fianco e lavoro maglia bassa a fianco lavoro qui nello spazio una maglia alta e adesso abbiamo le maglie già formate sotto quindi qui ho la maglia alta e sulla maglia alta lavoro la maglia bassa a fianco o la maglia bassa e lavoro la maglia alta a fianco maglia bassa a fianco maglia alta e vado avanti sempre seguendo la sequenza del mio punto fino a lavorare 60 maglie ci vediamo al termine del giro così vi faccio vedere come continuare ho lavorato le 60 maglie che servivano per la mia circonferenza manica ora prendo il filo giallo e devo lavorare il giro con il giallo quindi il verde lo porto sul davanti del lavoro perché ogni volta che noi dobbiamo poi riprendere il colore verde ci troveremo sul diritto del lavoro quindi non dobbiamo tagliare il filo prendo il filo giallo entro nella maglia bassa che abbiamo lavorato nel giro d'inizio e chiudo adesso con il giallo con una maglia bassissima tiro bene il verde e chiudo con una maglia bassissima chiudo bene e adesso ecco qua faccio una catenella devo tirare bene il lavoro perché adesso vi faccio vedere che facendo in questo modo non si vede neanche la chiusura del sottomanica questo è la parte finale e vi faccio vedere come non far vedere la chiusura una volta che abbiamo chiuso con la maglia bassissima ho fatto faccio la catenella giro il lavoro quindi tiriamo bene giro il lavoro e vado a lavorare sulla maglia bassa ecco qua dal rovescio quindi mi ritrovo sulla vado a lavorare direttamente sulla maglia alta a fianco facendo una maglia bassa continuando sempre la nostra sequenza a fianco sulla maglia bassa lavoro la maglia alta a fianco maglia bassa a fianco maglia alta andate avanti vi faccio rivedere quindi una volta che chiudiamo il giro col colore contrastante dobbiamo girare il lavoro e lavorare direttamente sulla maglia alta una maglia bassa e continuiamo sempre la sequenza ci vediamo al termine del giro dovete contare sempre le maglie che avete iniziato il giro io mi devo ritrovare sempre con 60 maglie sono arrivata a lavorare sulle ultime maglie quindi qui ho le tre maglie alte chiuse insieme su questa maglia lavoro una maglia bassa a fianco lavoro la maglia alta quindi chiudiamo sempre il giro con una maglia alta ora devo chiudere il giro e con il filo giallo lo sposto sul dietro qui all'interno perché poi quando lavoreremo il giro dalla parte del rovescio abbiamo già il filo giallo da questa parte prendo il filo verde che me lo ritrovo sul davanti entro dove ho fatto la maglia bassa tiro bene filo giallo e chiudo facendo una maglia bassissima con il verde e adesso inizio a lavorare con il verde faccio una catenella devo girare il lavoro dal diritto devo lavorare con il verde dal diritto quindi faccio in questo modo e mi sposto direttamente sulla maglia alta a fianco lavorando una maglia bassa entro lavoro maglia bassa vado a fianco maglia alta a fianco maglia bassa come vedete facendo in questo modo non si vede il cambio del filo rimane qui se casomai vi sbagliate potete mettere un segno qui a questo punto perché poi qui noi lavoreremo l'ultima maglia del giro che è una maglia alta e poi chiudiamo nella maglia bassa con una maglia bassissima però andate avanti e ve lo faccio rivedere anche perché facendo in questo modo noi non rientriamo nella maglia dove facciamo la catenella ma ci spostiamo sulla maglia a fianco quindi proseguite questa sequenza le maglie devono essere sempre nel mio caso sono 60 quindi contate sempre le maglie che avete sotto così non vi sbagliate qui ho la maglia alta lavoro una maglia bassa sulla maglia bassa una maglia alta ci vediamo al termine del giro mi ritrovo a lavorare sulle ultime maglie quindi continuo la sequenza di maglie alta maglia bassa e chiude il giro qui dove abbiamo iniziato che abbiamo la catenella con la maglia alta e mi ritrovo sempre con 60 maglie adesso sposto il verde sui davanti perché ogni volta con il verde dobbiamo lavorare dal diritto e il giallo sul prendo il colore giallo e dove ho la maglia bassa entro e lavoro una maglia bassissima e tiro bene tutte e due i fili faccio una catenella poi nel giro di ritorno qui lavoreremo la maglia bassa la maglia alta scusate adesso devo girare il lavoro giro in questo modo e devo lavorare direttamente mi sposto direttamente sulla maglia alta a fianco qui ho la maglia alta guardate si vede quindi lavoro la maglia bassa sulla maglia alta e riprendo a lavorare la mia sequenza del punto quando terminiamo il giro terminiamo sempre con una maglia alta qui dove abbiamo l'ultimo la catenella d'inizio e poi con una maglia bassissima chiudiamo sulla maglia bassa e cambiamo il filo quindi quando dobbiamo lavorare con il verde io lo sposto sul davanti fino quando dobbiamo lavorare con il giallo io lo sposto sul dietro e così non si vede la chiusura del filo e proseguo questo fino alla mia lunghezza io ho fatto un totale di 32 centimetri se invece voi volete avere la manica più lunga potete continuare non ho cambiato uncinetto lavorato sempre con il tre e mezzo perché come larghezza a me va bene questa manica di questa larghezza detto ciò il mio tutorial finisce qui spero che vi sia stato di aiuto ed ispirazione e se vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al mio canale un gruppo facebook che si chiama le creazioni di carola e le amiche di uncinetto che un gruppo libero dove potete postare tutti i vostri lavori ci vediamo a presto con altri video tutorial grazie per la visione e ciao